Dopo sei mesi di lavoro delle commissioni finanza e giustizia, il Senato ha approvato all'unanimità la riforma della giustizia tributaria. Il senatore e presidente della commissione finanza e tesoro, Luciano D'Alfonso, spiega cosa cambia grazie alla nuova legge, ribadisce il suo impegno per gli abruzzesi, fa sapere che mette a disposizione la sua officina di via De Marucini a Pescara per qualsiasi iniziativa aperta al pubblico. Tra le principali novità della riforma è l'assunzione tramite concorso per esami, previsto già dal prossimo mese di dicembre e aperto a laureati sia in giurisprudenza che in economia, di 567 magistrati tributari a tempo pieno. Una riforma di struttura che fa nascere finalmente anche in Italia il giudice tributario a tempo pieno non più a prestito. Nasce un giudice autonomo e indipendente in ragione del fatto che ci sarà un organo di autogoverno che si fa carico di garantire autonomia e indipendenza. Il giudice tributario può andare in pensione a 74 anni, il primo anno 73-72 in decalage. Ci sarà il tirocinio formativo di sei mesi, possono accedere alla carriera del giudice tributario anche i laureati in economia e commercio. Ci sarà la possibilità di contare su questo importante istituto anche nel rito processuale tributario della prova testimoniale che prima non c'era. Ci sarà anche la possibilità di risolvere il grande contenzioso in Cassazione, 50.000 cause pendenti da decenni ormai, che si potranno superare attraverso un'istanza entro un tempo dato, dopo la norma pubblicata in Gazzetta Ufficiale, per chi ha avuto ragione al primo grado e si trova in Cassazione perché ha perso il secondo grado pagherà solo il 20%, per chi ha perso al primo grado e ha vinto al secondo grado e si trova in Cassazione pagherà il 20%, a seconda di una delle due vittorie e di uno dei due gradi, se ha vinto tutti i due gradi e si trova in Cassazione pagherà il 5%. Pronto il Parlamento e il Governo anche a dei ritocchi di ulteriore funzionamento. C'è una norma rivoluzionaria per la quale ho lavorato personalmente con i miei colleghi e i miei uffici, quella che fa in modo da dare forza al reclamo e alla mediazione, se il contribuente prima di accedere alla giuridicizzazione del ricorso in primo grado e secondo grado, fai stanza di reclamo per ottenere mediazione e il funzionario non valorizza le situazioni di fatto e di diritto che sono lì descritte e poi il contribuente vince, pagherà personalmente il funzionario pigro che non ha voluto valorizzare quelle situazioni di fatto e di diritto. C'è riconoscimento al contribuente virtuoso, dandogli il bollino blu per cui non pagherà la garanzia fideiussoria laddove si trovasse davanti a questa situazione di diritto nei confronti dell'ordinamento tributario. C'è la possibilità per gli investitori esteri di fare domanda e attivazione dell'interpello, ieri era fino a 30 milioni, poi con un mio emendamento l'ho portato a 20 milioni, adesso lo portiamo a 15 milioni, per sapere in anticipo che cosa un imprenditore estero deve pagare se viene a investire in Italia. Ha la possibilità di interpellare l'ordinamento tributario e di farselo dire in anticipo. Siamo arrivati ad una norma approvata con amplissimo consenso che ci porterà anche il riconoscimento positivo dell'Unione Europea.